20 giugno. L'ONU celebra la giornata mondiale dei profughi. L'iniziativa nasce per commemorare l'approvazione nel 1951 della Convenzione sui profughi da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Viene celebrata per la prima volta nel giugno del 2001 in occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione. Ogni anno l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, seleziona un tema comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo. In Italia, come nel resto del mondo, è stata celebrata la giornata del rifugiato. Sono 50 milioni le persone in fuga da guerre e persecuzioni sfollate in campi profughi o esiliate fuori dai confini del loro paese. L'80% è costituito da donne e da bambini. Che cosa sogna per lui? Per lui sogno la possibilità di crescere in un mondo diverso di oggi. Cinque anni fa, Ernestine è fuggita da Goma, in Congo. Insieme a un passato segnato dalla violenza e dalla sopraffazione, si è lasciata dietro le spalle la casa, la famiglia, gli amici. Qui in Italia ha ricominciato a ricostruire la sua vita, dato alla luce il suo bambino. Nel mondo ci sono milioni di donne come lei, donne che hanno accettato il salto nel buio della fuga e dell'esilio perché non avevano altra scelta per sé e i propri figli. Il più delle volte finiscono in campi profughi. Questo si trova in inguscezia e raccoglie famiglie scappate dalla Cecenia per non restare stritolate tra l'offensiva della guerriglia indipendentista e la repressione russa. In dieci anni il numero dei rifugiati che hanno chiesto asilo in Europa è dimezzato, passando dai 675.000 del 92 ai 384.000 del 2001. Eppure, ora rischiano di fare le spese di una politica europea che vuole serrare le fila per combattere l'immigrazione clandestina, un pericolo che l'Italia vuole scongiurare. I rifugiati politici o chi ha titolo politico deve essere tutelato in ogni modo perché così dice il diritto internazionale e questa è l'intenzione del governo italiano.